Siamo appena giunti con un po' di giro a pesca al PG Comics, prima edizione e colombella. Il partner della fiera è Star Comics che devolverà l'intero ricavato alla bricata indipendente. Un bar dai prezzi davvero vantaggiosi, un ottimo prosecco rinfrescante e un'ottima compagnia, ma adesso ci ritroviamo nell'attesa prima del contest di cosplayer, vediamolo insieme. Grazie a tutti! Sono Pugia di Final Fantasy IX, sono il cattivo di Final Fantasy IX, sono stato creato da mio padre come angelo della morte. Sono qui per uccidermi tutti. Porcolea Strale! Dimmi da Luca! Grande applauso per Luca! Mi trasforma in chiunque dopo che non è prelevato il DNA. Visto che il DNA diventa inerzia, io mi assombo il più lungo durerà la trasformazione. Con un bicchiere posso resistere quasi un giorno intero. Il nostro Luca con un amico Tuga. Bravo! Bravo! Giuliana che ha portato su questo palco a Zelda! Un grande applauso! Un altro applauso ancora! Marco con un amico Tuga! Marco con un amico Tuga! Il gruppo viene assegnato alla Pigs Femmini! Miglior costume singolo femminile, crullo di tamburi, Julia Consoffi! Miglior costume singolo maschile va a Cristiano Quante dell'America! Bravo amore! E con questa bella vista sul lago Trasimeno voglio ringraziare tutti quanti la Brigata Indipendente per aver organizzato questa bellissima prima edizione del PG Comics, lascio in descrizione tutte le info e ci vediamo al prossimo anno, ciao!